Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di trasporti perché il senatore Luciano D'Alfonso torna sulla questione del raddoppio ferroviario della Roma Pescara affinché la regione pretenda la modifica del progetto. In base alla Costituzione, dice D'Alfonso, la competenza è proprio delle regioni. Giuseppe Lintino. La regione deve avere l'ultima parola sul progetto del raddoppio ferroviario della Roma Pescara e il senatore D'Alfonso sollecitare la presa di posizione dell'ente abruzzese invocando l'articolo 117 della Costituzione, quello che definisce la potestà legislativa di Stato e regioni. Senza il sì della regione non si definisce il tracciato dell'opera pubblica. A questo punto noi abbiamo un commissario straordinario, abbiamo una sezione speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per dare parere. Abbiamo un soggetto specializzato nel fare progetti che è Italfer, abbiamo una stazione specializzata a fare gare d'appalto che è RFI, abbiamo degli enti locali che hanno trovato la soluzione ai problemi che hanno prefigurato, abbiamo dei cittadini riuniti in comitati di cittadini che vogliono aiutare la soluzione per evitare che quest'opera pubblica venga rovinata dal dissenso e dal contenzioso. Si tratta adesso di usare i poteri che ci sono sul territorio per fare le grandi opere pubbliche. C'è un progetto di RFI a riguardo del quale, secondo lei, quale posizione dovrebbe prendere la regione? Quella di richiedere nei segmenti di conflitto e di assoluta inopportunità progettuale che si facciano modifiche. La progettazione a regola d'arte non è una qualsiasi progettazione gonfia, è una progettazione corrispondente alle caratteristiche dei luoghi, alle abitazioni che si riscontrano nei luoghi, alle attività economiche. Si può trovare una soluzione che faccia salva rapidità, efficacia della progettazione del cantiere e anche rispetto del consenso domandato. Quindi così com'è non va bene, deve essere modificato il progetto? Ci sono delle parti che si possono modificare che corrispondono al 25-30%, non è grande questione sul piano della consistenza. Si tratta adesso di metterci la dedizione, la collaborazione e la serietà e io questa me l'aspetto da RFI e da Italfair e mi aspetto che le regioni e tra le due la mia regione assuma iniziativa come scritto sulla carta costituzionale. In credibilità e sgomento a Silvi per la scomparsa del 55enne Milo Vallescura, morto ieri a seguito di un incidente stradale a Montesilvano. L'uomo era molto conosciuto in città, titolare dell'hotel Miramare. Tante le testimonianze di cordoglio da parte di amici, cittadini e clienti dell'attività. Sui social un messaggio anche del sindaco di Silvi che vediamo, Andrea Scordella. Partecipo sentitamente all'immenso dolore della famiglia, dei parenti e dei suoi tantissimi amici ed estimatori del carissimo Milo per la sua prematura e tragica scomparsa. Con Milo la nostra città perde una persona straordinaria, un amico generoso e sempre disponibile, un operatore turistico moderno, dalle buone maniere, dall'accattivante professionalità. L'intera amministrazione comunale partecipa con animo affranto al dolore dei parenti. L'albergatore ha perso la vita. Ieri pomeriggio stava percorrendo il lungomare di Montesilvano in direzione nord-sud in sella alla sua moto quando una Fiat Punto guidata da un 22enne a cui è stata ritirata la patente che percorreva la strada in direzione opposta ha svoltato a sinistra in via Arno. L'impatto è stato fatale per il 55enne. Si chiude oggi all'Aurum di Pescara, Terrà, il primo forum della transizione energetica. Per la regione Abruzzo si è trattato di un'importante occasione per parlare degli obiettivi da raggiungere. Paolo Renzetti. È stato Oscar Farinetti l'ospite d'onore questa mattina a Pescara, Terrà, il primo forum della transizione ecologica giunto alla giornata conclusiva e in corso di svolgimento all'Aurum. Il creatore di Italy ha parlato delle buone azioni da mettere in campo per perseguire la sostenibilità ambientale. Dobbiamo cambiare completamente visione del consumo. Io sono contrario alla decrescita felice perché la decrescita è sempre infelice, però sono a favore di una crescita consapevole. E noi che ci occupiamo di consumo, quindi siamo il centro di un modello sociale, perché il nostro modello sociale si chiama società dei consumi, dobbiamo essere i primi a convertire la nostra offerta con questi nuovi sentimenti nuovi. C'è perfino qualcuno che sostiene che ormai il tempo è scaduto. Il 90% dei scienziati ci dice che se non cambiamo modo di creare energia e di consumarla per realizzare prodotti e servizi da consumare andremo a sbattere contro il muro, cioè finirà la vita umana su questo pianeta. Un bel terzo di questo 90% dice che si è già fottuti. Speriamo che abbiano ragione gli altri. Qui dobbiamo velocemente andare verso la sovranità energetica in Italia. A fare gli onori di casa l'assessore regionale all'ambiente Nicola Campitelli che ha illustrato le azioni della Regione Abruzzo nel campo della transizione ecologica. Noi abbiamo bisogno, al di là degli eventi e delle attività operative, che noi come Regione Abruzzo stiamo portando avanti, come ad esempio tutta la capacità rinnovabile che noi vogliamo incrementare, quindi fotovoltaico, l'eolico, la geotermia, la bioenergia, rifiuti come risorsa, non più un pericolo per i nostri cittadini. Stiamo all'avanguardia dal punto di vista della sperimentazione dell'idrogeno, stiamo trasformando da elettrico a idrogeno la tratta ferroviaria sul Mona, l'Aquila, Rieti, Terni. Abbiamo convocato il primo tavolo istituito, il primo tavolo idrogeno permanente, dove in effetti noi vogliamo avere una programmazione regionale completa sulla filiera dell'idrogeno. Stiamo portando avanti tantissime altre iniziative, abbiamo approvato una norma sulle comunità energetiche, quindi una rivoluzione energetica che parte dal basso, dove cittadini e imprese possono mettersi insieme e autoconsumare l'energia elettrica rinnovabile, quindi green, prodotta. Quindi benefici non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico per l'utente finale. Quindi queste sono solo alcune delle iniziative che noi stiamo sostenendo e sosterremo, e stiamo sostenendo ancora di più con la programmazione 21-27, però accanto a queste iniziative, che sono tutte iniziative operative, abbiamo bisogno anche di attività culturali, di formazione, di stimolo e di sensibilizzazione rispetto a queste tematiche. Quindi Terra è proprio un evento di sensibilizzazione affinché tutti quanti noi possiamo essere parte attiva del futuro del nostro pianeta. Il bollettino Covid di oggi sono 512 di età compresa tra 3 mesi e 97 anni, nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Del totale 405 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e tamponi antigenici è pari al 9,44%. Tra i decessi recenti, il bilancio delle vittime sale a 3.315. In calo i ricoveri complessivi, anche se aumentano quelli in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono oltre 22.000, per la precisione 22.301. 214 pazienti, meno 22 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 9 con un incremento di due unità sono in terapia intensiva. Tutti gli altri sono in isolamento domiciliare, i guariti rispetto a ieri sono 2.391. Per quanto riguarda le variazioni per provincia, 117 casi in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, ha 162 casi in più rispetto a ieri in provincia di Chieti, 97 casi in più rispetto a ieri in provincia di Pescara, 119 in più rispetto a ieri in provincia di Teramo, 3 sono residenti fuori regione e per 14 sono in corso verifiche sulla provenienza. Come le amministrazioni locali e le imprese possono sfruttare le opportunità del PNRR per la rigenerazione urbana, se ne è parlato ieri in un incontro all'Università di Chieti. Andrea Costantini. Nel PNRR ci sono risorse per l'obiettivo della rigenerazione urbana, dalle grandi città ai centri minori, alle periferie, interventi tesi a implementare la qualità dell'abitare, con miglioramenti nell'edilizia residenziale fino agli spazi verdi pubblici. Il rapporto che c'è tra rigenerazione urbana e PNRR e in che modo le aziende possono attingere i fondi è stato il tema di un incontro promosso giovedì all'Università di Chieti dallo sportello Europe Direct Cittadino in collaborazione con Confartigianato che svolgono una funzione di consulenza e supporto. La mission di Confartigianato è proprio quella, dare da un lato un supporto a tutti gli enti locali e le amministrazioni che hanno difficoltà nella presentazione di proposte progettuali concrete sulle misure del PNRR, perché sappiamo bene quelle che sono le problematiche a livello di risorse umane che i comuni dispongono. Dall'altro, come Confartigianato, noi ci stiamo impegnando a supportare le imprese su tutte le misure, sia quella nazionale, ma anche quelle che la Regione da qui a breve metterà a disposizione del tessuto produttivo economico della Regione Abruzzo. Alla presenza di docenti e di responsabili delle associazioni di categoria l'incontro ha acceso i fari sulle risorse che il PNRR rende disponibili con particolare attenzione sull'impatto che tale strumento avrà sul territorio. Tra i relatori anche Emanuela Grimaldi, direttore del Dipartimento di Presidenza della Regione Abruzzo. Abbiamo avviato tutta una procedura di rigenerazione urbana e sostenibile collegata ai bandi del Ministero per l'Interno rispetto al degrado sociale e al MIMS rispetto alla rigenerazione urbana vera e propria. Quindi abbiamo inserito come finanziamento circa 100 milioni di euro nell'OP5 relativo proprio ai progetti di rigenerazione, sia nelle aree urbane che nelle aree diverse da quelle urbane. stiamo avviando una strategia territoriale finalizzata proprio all'individuazione di quelle aree e dallo scopo di costruire uno sviluppo strategico territoriale integrato con le risorse assegnate dal Piano Nazionale. A Teramo la Tari subirà una diminuzione per le utenze domestiche del 5%, una flessione che è stata possibile grazie alla politica di contenimento dei costi imposta dal Comune alla Teramo Ambiente. Il piano economico finanziario della Team è di 10,3 milioni di euro e martedì andrà in Consiglio Comunale per l'approvazione. Tania Bonici Castelli. 10 milioni 349 mila euro, l'importo che va a tariffa, diciamo così. Il più basso è che deriva da due azioni, una interna all'azienda di ottimizzazione e riduzione dei costi, in un momento peraltro difficile dove abbiamo l'incremento dei costi di carburante e di tutte le altre spese che le aziende, le società partecipate come i comuni hanno in questo momento. Nonostante questo in un momento in cui aumenta tutto si riduce la Tari che a fianco di questa azione abbiamo fatto una scelta importante come amministrazione di mettere a disposizione risorse ulteriori, nostre, per abbattere la pressione della Tari e consentire di dare un segnale importante, quindi un milione di euro di abbattimento della Tari che ovviamente consentirà a tutti i cittadini di avere un beneficio ed è l'unica bolletta che si ridurrà di fatto in questo momento storico anche perché c'è una gestione, la nostra, di una società che è appena partita quindi potrà solo migliorare al servizio dei cittadini e non della politica perché sappiamo che altrove la gestione politica determina un incremento delle bollette esponenziali perché la politica carica i propri costi sui cittadini. Ci sarà una riduzione media comunque in questo momento storico importante insomma anche senza toni trionfalistici perché parliamo di una media del 5-6% per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche siamo riusciti a mantenere lo stesso livello dello scorso anno dove c'era già stata una riduzione importante con il fondone Covid quindi anche questo risultato significativo anche qui con una leggera riduzione che comunque darà respiro. Attraverso il meccanismo delle agevolazioni al di sopra della media di riduzione generale ci sarà una riduzione importante per i cittadini delle frazioni frazioni interessate dal sistema delle coisole ed è soprattutto un riconoscimento nei confronti di queste comunità che comunque hanno consentito con la spinta delle coisole di superare il 72% di raccolta differenziata un risultato straordinario e quindi anche un segnale che consente di proseguire in questa direzione della tariffa puntuale della riduzione della protezione del rifiuto che a lungo termine nel momento in cui la Tema entrerà al regime diventerà chiaramente il punto di forza di un'azienda che già è un riferimento dell'intera provincia e competitiva anche a livello regionale. Approvato il bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Avezzano voto contrario da parte dei consiglieri di opposizione come Mario Babbo che ascoltiamo nell'intervista. Il bilancio di previsione 2022-2024 è stato approvato dal Consiglio Comunale di Avezzano con 16 voti favorevoli e 6 contrari. Hanno votato contro i consiglieri di opposizione Alfredo Masci Grande, Mario Babbo, Filomeno Babbo, Stefano Lanciotti, Goffreddo Taddei e Lorenza Panei. Assenti Tiziano Genovesi e Iride Cosimati. Ho rilevato alcune criticità che poi ho espresso anche in Consiglio Comunale. Ho parlato di IMU, di tassazioni, di Tari. Sulla Tari in particolare è stato detto che non ci sono stati aumenti e questo è vero. Però è altresì vero che io ho proposto di utilizzare l'articolo 15 del regolamento sulla Tari che permetteva un delta di sconto per i cittadini pari a un massimo del 7% e non è stata accolta questa mia richiesta. Allo stesso modo relativamente all'IMU, anche in questo caso è vero che non è stata aumentata, ma del resto non poteva essere aumentata perché già è a plafon, già è al massimo della possibilità di richiesta ai cittadini e dal mio punto di vista l'amministrazione avrebbe dovuto fare qualcosa in più probabilmente per cercare di diminuire la cosa che invece non è stata fatta. Ho parlato di cultura. Il bilancio deve essere un bilancio veritiero e sicuramente lo è stato, però mi sono posto alcune domande, come trovo una posta di bilancio di 100.000 Euro per la cultura e altri 35, forse 40 da poter ricavare dai meandri del bilancio stesso per questo settore e poi vado a vedere che l'anno scorso magari sono stati utilizzati 260.000 Euro soltanto per gli eventi estate e quindi non riesco a capire se non c'è programmazione o se è stato semplicemente un escamotage che è servito e servirà per poi magari fare delle variazioni di bilancio che sicuramente sono degli strumenti tecnici esistenti, consentiti dalla legge, però appunto denotano forse una scarsa programmazione. In realtà non è stato fatto nessun passo avanti, non è che con questo regolamento ci sono state nuove telecamere, nuova videosorveglianza e cose del genere. È stato semplicemente regolarizzato quello che già esiste in questa città. E ho dato atto perché qualche consigliere di maggioranza, a differenza di quello che è stato detto dall'Aggiunta e mi sembra anche dal Vice Sindaco se non ricordo male, che parlavano di una città sicura, qualche consigliere di maggioranza la pensa come me nel senso che la percezione non è quella di una città estremamente sicura. Certo non siamo nel Bronx, però qualcosa in più secondo me andrebbe fatto anche perché il tema della sicurezza, io ci tengo sempre a dirlo, non è il tema di un partito piuttosto che di un altro. Dopo due anni di stop causa pandemia torna il premio intitolato al militare della Guardia di Finanza, Ermando Parete. Quest'oggi è la proclamazione del vincitore 2022, ovvero Guido Barilla. Sarà Guido Barilla, imprenditore della multinazionale del settore dell'alimentare, a ricevere il premio Parete 2022. Ermando Parete, originario di Abbateggio, era un vicebrigadiere della Guardia di Finanza che nel 1943 si rifiutò di combattere a fianco dei nazisti e fu rinchiuso nel campo di concentramento di Dachau da cui fu liberato dall'esercito statunitense. La presentazione di questa nuova edizione si è tenuta nella caserma pescarese a lui intitolata, davanti anche ad alcune scolaresche. Il parallelismo con l'attualità è inevitabile. Davanti agli errori delle guerre di oggi, ha dichiarato il figlio donato, mio padre avrebbe detto di studiare. Tutti gli ultimi 11 anni della sua vita, finché non era troppo anziano e sempre stato nelle scuole, a dare un messaggio ai ragazzi che era il messaggio di studiare, di studiare, di studiare. Studiare vuol dire dotarsi di strumenti critici, per saper leggere le cose, non per guardare all'orrore di guerra e di morti per dividersi in tifoserie superficialmente. avrebbe detto studiate, non riuscirete magari ad arrivare alla verità assoluta, ma è l'unico modo per avvicinarsi, sì. Quello è un impegno serio da perseguire. Prendere parte di Rebutad, avrebbe detto lui, ma è un po' dura, è una gran fesseria. La premiazione avverrà in autunno all'Università Bocconi di Milano. Quest'oggi l'evento di proclamazione è tornato in presenza dopo due anni di stop causa Covid. È molto importante di ritornare ad aprirsi, ma soprattutto aprirsi ai giovani, perché il messaggio di Armando Pareto è molto importante soprattutto per i ragazzi, perché dimostra come con la resilienza, la volontà di resistere alle ingiustizie, si può poi lasciare un messaggio positivo anche alle passate generazioni. Oggi a Laurum di Pescara la giornata finale della prima edizione del premio Silvano Forlano, organizzato dall'Abruzzese Salute, la mutua della BCC Abruzzese di Cappelle sul Tavo. Si è tenuta questa mattina a Laurum di Pescara la giornata finale della prima edizione del premio Silvano Forlano, organizzato dall'Abruzzese Salute, la mutua della BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo. Più di cento gli studenti dei licei artistici di Pescara, Chieti e Lanciano che hanno preso parte alla mostra dedicata al manager e artista Silvano Forlano, scomparso prematuramente all'età di 62 anni. Le opere realizzate dai ragazzi, pitture e sculture, sono in mostra dal lunedì scorso all'interno dello stesso Aurum e sono molto apprezzate dal pubblico. Si tratta di pitture e sculture che verranno giudicate da una commissione di cinque esperti che deciderà e proclamerà i vincitori. Il premio è nato per mantenere vivo il ricordo di Forlano, dirigente d'azienda La De Cecco, artista e consigliere d'amministrazione dell'Abruzzese Salute Mutua. Silvano Forlano, oltre ad essere un grande manager, è stato un grande cultore dell'arte, dell'arte moderna ma anche dell'arte classica. ma in generale è sempre stato un grande promotore della competizione e del culto del bello proprio per questi due valori che noi abbiamo voluto creare questa iniziativa coinvolgendo le scuole d'arte, gli istituti d'arte di Pescara, di Chieti e di Lanciano. È un esperimento riuscitissimo visto il numero importante di artisti che hanno voluto aderire competendo in questo progetto, in questa giornata. Ed è un esperimento che porterà poi ad allargare su base regionale, su base nazionale e addirittura se riusciremo su base internazionale, questo esperimento negli anni prossimi, con gradualità. Silvano Forlano è stato prima di tutto quasi un amico, perché comunque è stata una persona sempre vicina alla banca e ha partecipato a tutti i processi decisionali che hanno portato comunque l'Abruzzese Salute ad ottenere riconoscimenti molto importanti. Oggi conta oltre mille soci, ovviamente la banca, la BCC Abruzzese di Cappelle sul Tavo è sostenitore, socio-sostenitore dell'Abruzzese Salute e contiamo attraverso anche queste iniziative di continuare nella fase di sviluppo di questa realtà. Rimaniamo a Pescara perché proprio la città adriatica ospiterà le finali nazionali dei campionati studenteschi di atletica leggera dal 29 maggio al 2 giugno. L'evento è stato presentato questa mattina. Pescara è la sede prescelta per un grande evento di sport, quale la finale nazionale dei campionati studenteschi 2022 di atletica leggera. Sarà lo scenario dello stadio adriatico Giovanni Cornacchia dal 29 maggio al 2 giugno ad accogliere circa 1600 atleti provenienti da tutto il paese. I campionati promossi e organizzati dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale del Settore Sport, rappresenta un'altra grande opportunità promozionale per il capoluogo adriatico che di recente ha già vissuto un momento di rilievo con l'arrivo e la partenza di una tappa del Giro d'Italia. Il Ministero dell'Istruzione ha voluto fortemente questa manifestazione dopo due anni di pandemia. È una delle più grandi, forse l'unica manifestazione a livello numerico per quanto riguarda i partecipanti. È un segnale importante di ripartenza. Per noi e per il mondo scuola non è soltanto un aspetto tecnico e sportivo ma un aspetto sociale e di inclusione. Queste sono le realtà nostre. Sicuramente anche l'aspetto sportivo sarà importante perché voi immaginate che a livello nazionale siamo ripartiti con l'attività sportiva scolastica a marzo e oggi ci ritroviamo a fine maggio a fare una finale nazionale, veramente, io penso anche di alto livello tecnico e agonistico. Due settimane fa abbiamo avuto la grande notizia. Dopo tutti questi grandi eventi sportivi non poteva mancare la finale nazionale dei campionati studenteschi di attività di cara leggera. Avremo la possibilità di ospitare 1600 ragazzi provenienti da tutto il territorio nazionale ma soprattutto avremo 350 ragazzi diversamente abili. Una grande avventura per la nostra città ma sicuramente pronta ad organizzarsi nel migliore dei modi e dare il giusto supporto a queste grandi manifestazioni che rappresentano la nostra città e il nostro futuro. In programma invece per il 5 giugno la prima edizione dell'ultra maratona città di teatre. La partenza della competizione è prevista per le 8 di mattina. I 100 atleti partecipanti da piazza Mazzini, ossia villa comunale, gireranno per le vie del centro di Chieti fino al raggiungimento delle 6 e delle 8 ore previste. Tra i maratoneti anche nomi illustri dell'agonismo di specialità. Per la prima volta si disputa un ultra maratona a Chieti, si tratta di due gare, una da 6 ore e una da 8 che si snoderà lungo un tragitto di un chilometro. Quindi ci sarà l'opportunità di vedere alcuni dei beniamini, insomma dei vincitori di questa specialità più volte perché ripasseranno sullo stesso tragitto. Sì, la cosa bella proprio di queste gare è il fatto che ogni atleta lo rivedi lungo il percorso, quindi questo è il bello. La gara è un anello di un chilometro, ci sono grossi personaggi ultramaratoniti a livello italiano, è inutile fare presentazione ad Alberico di Cecco, ci sarà Maurizio Di Paolo, Samuele Fabrizio, Nico Leonelli, Annalisa Fitti che sono tutti atleti che si dedicano a questa ultradistanza che sono gare superiori quasi a 50 chilometri. Da dove nasce l'idea di un ultra maratona? L'ultra maratona, noi abbiamo un grande gruppo di ultramaratoniti in Abruzzo, attualmente c'è una classifica Utah e noi siamo al terzo posto, quindi siamo 50 persone abruzzesi che amano questa ultra. Prima edizione l'abbiamo fortemente voluta insieme agli organizzatori, peraltro stiamo puntando molto sugli eventi sportivi, soprattutto su quelli nelle piazze e nelle strade perché lo sport è ripresa, lo sport è il principale veicolo di sana aggregazione e un ultra maratona con numeri davvero importanti, parteciperanno circa 100 atleti e soprattutto come dicevo sarà un periodo molto intenso, stiamo lavorando ad un giugno e un luglio pieno di eventi sportivi in piazza, ci sarà l'11 anche la notturna che riprenderà dopo la pandemia, ma poi il 18 di giugno inizieremo con le sportivi. Stando all'ultra maratona città di teate va detto che è un appuntamento assai partecipato ma anche in grado di portare un indotto importante perché le strutture ricettive della città si stanno già riempiendo. Siamo davvero felici, ringraziamo la WISP, l'AVIS, l'associazione che ha organizzato insieme a noi la Manopello Sogeda, è un gioco di squadra, noi crediamo nella compartecipazione col mondo associativo. E dall'ultra maratona passiamo al volle perché nonostante l'amarezza per la finale persa, quella della Bapineto resta una stagione molto positiva con due nomi su tutti, Jakub Blink e Mattia Catone, entrambi potrebbero restare anche il prossimo anno. Sergio Zappalorto. Jakub Blink contro la tua ex squadra avete ceduto l'opportunità di salire in a due, peccato. Sì, purtroppo è andata così, secondo me non abbiamo giocato a nostro livello nella finale e loro hanno fatto una signora gara, sia a gara 1 che a gara 2, quindi è andata così, purtroppo. È andata male ma ci riproverete il prossimo anno, possibilmente con un certo Jakub Blink come opposto. Non so dirti ancora, vediamo cosa succede. C'è qualche possibilità? La possibilità c'è, però... E la voglia? La voglia sì, vediamo, vediamo. Perché sei stato bene, Pineto? Sì, mi sono trovato benissimo. Allora, questo campionato è servito anche a questo, a far crescere un certo Mattia Catone. Mattia, complimenti, hai fatto un salto assoluto di qualità. Penso che tu possa essere ampiamente soddisfatto di quello che hai fatto. Grazie mille, Sergio, sì. Nonostante il risultato sono contento del percorso che ho fatto sia io singolarmente che la squadra ha fatto quest'anno. Ci rifaremo l'anno prossimo senza dubbio e, ripeto, sono felice per il percorso. Ci rifaremo vuol dire che comprendi anche te stesso e vuol dire che sarai confermatissimo. Speriamo, speriamo. Diciamo che la trattativa non è ancora stata chiusa. Vediamo di concludere al più presto. Questo era il nostro ultimo servizio. I contributi che avete visto sono disponibili sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi una buona serata. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi una buona serata.